Tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. In questo video voglio farvi vedere ancora una volta questo set che è appunto Glitz Studio. Avete già visto magari altri video utilizzando questo kit, per esempio come quando ho fatto la fascia dei capelli, ma direi che questa volta facciamo qualcosa di diverso. Infatti tra i vari fogli che avevo fatto già vedere con i brillantini, per esempio avevamo usato questo viola e un altro rosa per fare un quaderno. E poi abbiamo invece questo nero che è un po' particolare. Ed ora vedremo appunto come utilizzarlo. E in particolare quello che faremo sarà decorare un vaso. Vedete questo è un vaso di una marmellata vecchio, ho rimosso ovviamente il tutto e ho messo della sabbia e una decorazione con dei piccoli leoncini, che sono appunto quelli che trovate anche negli ovetti Kinder per esempio, quindi negli ovetti Kinder Sorpresa. E stavolta voglio fare qualche decorazione appunto sul vaso. Cerchiamo allora tra i miei tatuaggi, quindi tra i miei esempi, quale potrebbe andare bene. Alcuni vedete che appunto sono già stati usati. Oh, che ne dite? Magari uso questo, anche con questo cuoricino, che ne dite? Ma sì dai, facciamo questo. Ecco qua, quindi ho tagliato il mio tatuaggio, tolgo naturalmente come solito la parte bianca e lo incollo al mio vaso nella posizione che desidero. Naturalmente la superficie qui deve essere ben pulita e non deve essere grassa o appiccicosa per altre sostanze. e magari appunto anche asciutta, quindi senza che ci siano granelli di sabbia, senza che ci sia altro. E ora che ho fatto un po' di pressione, rimuovo e vedete un pochino si vede il disegno che è rimasto impresso. Ed ora uso la carta nera. Vedete, ecco qua. Da una parte abbiamo questa superficie che è lucida e dall'altra invece che è opaca, quindi questo nero. E metto quindi quella opaca qui e naturalmente schiaccio per bene. Questo dovrebbe durare un pochino più a lungo degli altri, perché comunque è una stoffa diversa, quindi una superficie diversa. E ora posso rimuovere. E tadaaa, guardate quanto è carino. Lì cerco di magari metterne un po' di più. Vediamo ora se riesco. Sì, decisamente, guardate. È proprio carino il risultato finale, che ne dite? Oh, il nostro lì amicino si è ribaltato. E vedete, semplicemente con un bel nastrino potrebbe essere un bellissimo regalo anche per un'amica. Ecco qua, guardate. Questo era il terzo dei miei test con questo kit. E ogni volta devo dire la verità che sono soddisfatta e sono sorprese dei risultati che si possono ottenere. Credo che sia davvero carino ed interessante. E naturalmente ci sono tante cose da provare. Se non avete ancora visto, guardate anche gli altri video sul mio canale, appunto, utilizzando questo set. E vedete, ci sono tante, tante opzioni. Quello che è un po' un peccato è che, appunto, non ho mai utilizzato questa lente, quindi questa superficie, che magari potrebbe essere, appunto, più indicata per dipingere le unghie. Però avete visto, la maggior parte dei casi ho utilizzato comunque la superficie del tavolo o altre superfici. Quello che è un po' un peccato, insomma, per quanto riguarda questo set, che una volta che i tatuaggi sono finiti, quindi che questi sono finiti, è un po' più difficile trovarli. E, insomma, non ci sono tantissimi fogli in questo kit. Naturalmente è anche possibile utilizzare, per esempio, cercare di trovare delle alternative, ma che non sono esattamente quelle di questo kit. E sarebbe stato anche carino, magari, poter avere qualche foglio e quindi essere un po' più creativi, di disegnare noi stessi quello che preferivamo utilizzare. Purtroppo, appunto, questo non è parte del kit, ma credo che, in realtà, insomma, questo è molto molto carino e ci sono davvero tante cose che possono essere realizzate con l'aiuto di questo kit. Come vedete, oltre che la carta, ci sono anche brillantini e ci sono davvero tante opzioni. E tanti tatuaggi, insomma. Spero che, quindi, questo video vi sia piaciuto. Naturalmente, fatemi sapere cosa ne pensate. Se avete voglia o se vi è piaciuto, appunto, questo kit, guardate anche i nostri altri video. Scrivete tutto nei commenti. E ci vediamo alla prossima volta. Mi raccomando, abbonatevi al nostro canale, continuate a seguirci e ci vediamo presto. Ciao!